Buongiorno a tutti, io sono Edoardo Stella, sono il direttore commerciale di Alpacom. Oggi voglio parlarvi dell'azienda che rappresento e delle soluzioni che Alpacom propone per la finitura e l'isolamento del foro finestra. Alpacom è un'azienda che pesca la propria esperienza da ben 60 anni di storia. Il nonno dell'attuale amministratore delegato produceva seramenti in legno, abogibili in legno, viscuretti in legno e tutto quello che si poteva fare con legno. Negli anni 70. Il padre invece nei primi anni 80 fondò Alpacom, l'azienda vera e propria, introducendo la produzione del monoblocco coibentato. Da allora Alpacom è un'azienda che ha saputo strutturarsi e crescere sul territorio. Cinque stabilimenti, 9 mila metri quadri di area produttiva, ogni stabilimento è uno stabilimento dedicato alla produzione o di una linea di prodotto o di una parte del prodotto, quindi altamente specializzata. Un'azienda che per forza di cose è entrata in contatto con migliaia di clienti, accrescendo al proprio know-how la proposta tecnica che poi riusciamo a trasmettere ai progettisti e a tutti i nostri clienti. Un'azienda che ha saputo sviluppare la propria rete vendita sul territorio e che ci ha concesso di capire e di imparare anche quelle che sono le abitudini costruttive di ogni regione, ma molto spesso anche di ogni provincia. O di ogni città, perché i centri storici sono diversi dalle periferie. Alpacom è un'azienda certificata ISO 9001. Ora vi chiederete perché un funzionario che ha l'opportunità di parlare davanti a un pubblico così altamente profilato, invece di parlare di cose tecniche e di prodotti, inizia con una slide dedicata a una certificazione ISO 9001. L'ISO 9001 è una garanzia che non serve a noi, è una garanzia che serve a voi. Lo scopo di una certificazione ISO 9001 è quello di controllare il livello di qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente finale. In poche parole, è come se ognuno di voi, prima di affidarmi una commessa, decidesse di venire in azienda e passare una settimana per controllare di persona come riceviamo gli ordini, come sviluppiamo gli ordini, come facciamo lo stoccaggio, se l'amministrazione lavora in maniera trasparente ed efficace, come organizziamo le squadre di posa, come organizziamo le consegne in cantiere, le tempistiche, se rispettiamo i parametri. Poi voleste vedere, dal progetto al prodotto finito, se il prodotto finito corrisponde al progetto, se qualitativamente è valido. E poi tiraste sul telefono e chiamaste i nostri clienti per chiedere qual è il livello di esperienza e di soddisfazione che avete avuto dall'esperienza con Alpacom. Solo allora, una volta che avete sentito tutto positivo, avete giudicato che è sufficiente, si affidaste all'Alpacom la propria commessa. Ecco, questo passaggio lo fa per voi il certificatore ed è importante per noi a questo punto che la gente, il cliente capisca che deve fare delle considerazioni prima di affidarsi a un produttore, perché è responsabilità del cliente di chi si porta a casa, cioè chi sarà la persona che seguirà un aspetto molto tecnico nella progettazione di un edificio che ora andremo a vedere nello specifico. E vi parlerò sostanzialmente del nostro monoblocco, che è il nostro core business. Noi siamo da sempre produttori di contortelae coibentati, che è un sistema prefabbricato che ospita al proprio interno un cassonetto isolato a scomparsa, delle spallette, nel nostro caso in schiuma poliuretanica, che contengono la guida di scorrimento della volcibile, il falso telaio per alloggio del seramento e mettono in condizione di essere inserite su un foro grezzo e passare in brevissimo tempo da un foro grezzo a un foro finito. Con una precisione industriale, noi siamo stati la prima azienda del settore a certificarci come industria 4.0. Adesso siamo in trattativa che c'è la possibilità di fare lo switch e uscire con il 5.0 ed è un sistema prefabbricato che in un solo momento risolve un nodo fondamentale che è di competenza del progettista, e cioè la risoluzione del giunto primario e del giunto secondario. Siamo l'unica azienda in Italia ed è l'unico prodotto sul mercato che si può definire come spalletta autoportante a tutti gli effetti perché non è un prodotto che otteniamo tramite l'incollaggio di un prefinito tipo un EPS o un XPS con un pannello di finitura ma lo produciamo partendo da dei profili di alluminio portanti che andiamo a schiumare, schiuma poliuretanica ad alta densità che viene cotta in foro e poi lavorata dal pieno. Ed è proprio questo suo concetto di essere una spalla portante che ci consente di attaccare ad esempio sulla spalla alcune componentistiche che altrimenti sarebbero di difficile gestione in cantiere prima fra tutte ad esempio i supporti per i cardini in facciata della persiana. Ma il nostro monoblocco si adatta a tutti i sistemi oscuranti sia ben chiaro, quindi dalla persiana agli scurenti noi siamo di Vicenza, c'è lo scuro alla Vicentina quindi nasciamo proprio con quel sistema oscurante ma poi per forza di cose lo scuro più utilizzato è l'avvolgibile quindi c'è per la persiana, c'è per l'avvolgibile con il cassonetto coibentato ci sono frangisole dedicati al sistema oscurante un po' più particolare ad esempio i frangisole, cioè i sistemi a lamella che poi si impacchettano e sono orientabili ma proprio perché noi siamo produttori noi riusciamo ad adattarci a qualsiasi sistema oscurante il progettista decida di utilizzare per cui se voi individuate un avvolgibile blindato particolare di cui il vostro cliente si è innamorato non vuol dire che necessariamente se non lo trattiamo noi non sia implementabile in un sistema prefabbricato perché il nostro è un sistema altamente customizzabile quindi lo progettiamo, lo costruiamo in base a quelle che sono le vostre necessità è una tipologia costruttiva ed è indeformabile, inalterabile nel tempo e dotata di certificazione termoacustica ben precisa che cosa vuol dire? che il nostro foro finestra ha una carta di identità ben precisa quando utilizziamo un prodotto Alpacom e cioè le sue dimensioni che sono perfette e inalterabili quindi base per altezza lo spessore della spalletta quindi lo spessore del muro ma anche la resa termica e la resa acustica intervenire su ponti termici è un'onere del progettista questa soluzione prefabbricata risolve da sola oltre che i giunti primari e secondari come dicevamo prima anche l'onere di individuare e tagliare di netto i ponti termici l'ultimo aspetto molto importante è il risultato estetico oggi non è più possibile progettare una residenza, una casa, un edificio senza tener conto di quello che è l'aspetto estetico finale se voi lavorate con i clienti privati il cliente privato ha delle esigenze particolari e di sicuro non è più disposto ad accettare all'interno dell'edificio all'interno della stanza i vecchi cassonetti in legno come c'erano negli anni 80 quindi per forza di cose bisogna optare per un sistema a scomparsa e il monoblocco per definizione è un sistema che viene murato ed è un sistema a scomparsa tutto quello che ho detto vale tanto per il nuovo quanto per le ristrutturazioni ed è un aspetto importantissimo lasciamoci pure alle spalle il 110 che ha fatto del bene e anche del meno bene ma occupiamoci di quelli che sono gli interventi di tutti i giorni nella stragrande maggioranza dei casi noi ci troviamo ad avere un cassonetto in legno come quello nella parte sinistra della slide allora se è vero che le ristrutturazioni per tutti gli anni 80 e gran parte degli anni 90 erano più che altro dei restauri cioè si entrava in un appartamento non so se voi ci siete passati io da bambino si carteggiavano i telai dei seramenti si ripitturavano si davano a mano di bianco e se i sanitari erano buoni si lasciavano per i che erano e quindi sostanzialmente l'appartamento veniva restaurato e riportato un pochettino come erano le origini da fine anni 90 e per tutti gli anni che ci sono fino al 2024 questo restauro quindi questa è diventata una riqualificazione energetica oggi chi vuole ristrutturare si affida a un professionista che ha come primo scopo quello di individuare i ponti termici ed eliminarli quel cassonetto che oltre ad essere esteticamente molto impattante e non più accettato dal cliente è un gravissimo ponte termico è un gravissimo ponte acustico non c'è niente da fare intervenendo con una soluzione che ha sopportato una configurazione particolare come questa noi riusciamo a togliere quel cassonetto inserire delle spallette coibentate con un cassonetto a scomparsa cambiamo ovviamente il seramento ma qual è l'aspetto importante? che se io devo lavorare senza toccare la facciata esterna e questo diventa interessante se devo recuperare un solo appartamento all'interno di una palazzina dove non posso lavorare sulla facciata io riesco lavorando senza toccare la facciata quindi senza fare cappotti eccetera eccetera ad inserire un monoblocco pimentato con il cassonetto e a tagliare completamente i ponti termici vi dico che io insomma qualche cantiere lo frequento l'ho visto anche dopo allora mentre l'effetto economico del risparmio energetico è valutabile nei mesi e quindi dopo che avrò pagato un tot di bollette potrò fare paragone con l'anno precedente l'effetto immediato che voi notate è il silenzio totale che c'è dentro la stanza perché la barriera acustica è fortissima e non paragonabile al vecchio cassonetto in legno Al Paco come primo approccio al cliente a quello che io amo chiamare la consulenza e cioè si va presso lo studio a raccogliere le informazioni e i dati del progetto è fondamentale conoscere qual è ad esempio la tipologia di muratura che intendete utilizzare una volta c'era l'atterizio intorno all'interno e intorno all'esterno poi l'atterizio c'è stato messo il cappotto e poi ci sono murature adesso molto più prestanti molto più veloci da utilizzare ogni muratura deve essere conosciuta e inserita sul nostro monoblocco quindi la consulenza è io vado a prendere notizie presso lo studio del progettista tipo di muratura tipo di serramento tipo di oscurante eventualmente posso già valutare se c'è qualcosa che non mi torna perché ad esempio una anche io a casa mia vorrei una porta finestra da 5 metri però attenzione perché gli avvolgibili arrivano a 4 metri quindi o sono disposto a doppiarla con tutto quello che comporta esteticamente oppure devo stringere oppure devo cambiare il sistema oscurante quindi molte cose le raccogliamo da subito la seconda fase è quella della condivisione cioè una volta che abbiamo raccolto le informazioni torniamo con quella che è la proposta tecnica quindi la soluzione tecnica individuata in base alla muratura che avete la finitura il seramento tutto quello che abbiamo detto prima viene proposto al progettista e non è solo una consulenza di una condivisione del progetto ma anche una condivisione del costo economico dell'operazione perché attenzione un sistema prefabbricato voi sapete sin da subito qual è la spesa finale più il prodotto è prefabbricato ed è finito più voi avete un costo certo è ovvio che se prendete un sistema che va paraspigolato rasato oppure sistemi che hanno bisogno di ulteriori lavorazioni il costo finito lo saprete alla fine del cantiere non in quel momento preciso l'altra fase è la posa in opera che noi ovviamente possiamo fornire posa in opera a regola d'arte ma anche la posa in opera la posa clima va da sé che un prodotto un ottimo prodotto posato male funziona come un pessimo prodotto quindi anche lì è un ragionamento che va fatto in fase d'acquisto il post vendita il post vendita a tutti gli effetti oggi è diventato il crucio fondamentale perché il post vendita è il servizio il servizio che non è come post vendita la garanzia di due anni che vi dobbiamo dare sui motori degli avvolgibili perché quella ce la richiede l'Europa è una legge il post vendita è inteso come consulenza che viene data in cantiere il materiale quando arriva in cantiere non necessariamente per noi si chiude la storia perché potrebbe sempre esserci un dubbio qualcosa da andare a vedere come posare le soglie come posare il monoblocco sul nostro monoblocco attenzione interviene elettricista capotista serramentista chi fa gli intonaci quindi c'è tutta una serie di persone che bisogna essere in grado di coordinare di cui si deve conoscere bene qual è il loro lavoro e come deve essere fatto correttamente su questo che è il nodo principale più debole di un'abitazione ora concluderò il mio intervento facendovi anch'io vedere un breve video meno spettacolare di quello di prima ma un video reale che abbiamo gelato in un cantiere dove ci hanno ospitati quindi questo non è un laboratorio allora vedete il monoblocco arriva viene assemblato nelle sue parti vengono montati di distanziali per mantenerlo rigido e cosa fondamentale sotto la nostra spalletta viene inserita una guarnizione in neoprene che una volta schiacciata sui marmi fa da sigillante perché il punto debole di tutti i controdelai è il punto di giunzione tra il marmo quindi il tavazzale o la soglia e la nostra spalletta quindi una volta inserita sul foro messo a piombo e fissato provvisoriamente con dei cunei un'operazione che richiede poco più di un quarto d'ora si passa alla seconda fase quindi tutta l'intercapelline che rimane attorno al monoblocco che è la luce del grezzo che viene lasciata da progetto viene riempita con la fase di schiumatura è una schiuma a passo espansiva ad alto rendimento acustico serve riempire con l'intercapelline una doppia schiumatura quindi su tutto il profilo esterno e su tutto il perimetro interno del monoblocco viene praticamente già così fissato alla muratura si procede sempre dal basso verso l'alto mi raccomando se vedete qualcuno che schiuma l'alto verso il basso non va bene il tempo è un'altra decina di minuti e poi rimane la fase di fissaggio meccanico del monoblocco alla muratura quindi con delle turboviti con dei tasselli o a volte anche rompendo la muratura andando poi a mettere della malta si va a fissare il monoblocco all'interno della muratura e passiamo in poco meno di mezz'ora da avere un foro grezzo ad avere un foro finito lucidi architettoniche rispettate finitura rispettata e pronto diciamo a ospitare i cappotti gli intoneci gli impianti e quant'altro ora il mio intervento volge al termine noi quest'anno saremo in tour per parecchi mesi insieme a Infoprogetto e quindi porteremo il nostro progetto sulle principali piazze italiane l'invito è quello di venire a visitare il nostro sito un sito open source quindi un sito che vi permette di scaricare delle schede tecniche di entrare senza dovervi registrare quindi molto semplice io oggi sono qui accompagnato dalla mia direttrice del marketing e prima del mio intervento mi ha tanto raccomandato di invitarvi a seguirci anche su tutti su tutte le nostre piattaforme dove ci sono sia video tecnici video esplicativi video che parla di chi siamo cosa facciamo e devo dire anche qualche video molto divertente con questo vi ringrazio e vi auguro buona continuazione grazie a tutti